Dopo una lunga giornata fuori casa, fatta di corse affanni, ciò che mi rilassa di più è dedicarmi alla cucina. Amo trascorrere il mio tempo libero tra ricette e fornelli. Spesso preparo ricette semplici e veloci, trovate sul web o in qualche vecchio libro di cucina regalatomi da mia madre. Apparecchiare con cura la tavola è un gesto che mi mette sempre di buon umore. Passano una tovaglia dei toni delicati e dei fiori freschi per rendere tutto più bello e armonioso. Grazie. 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 Grazie.